Il mondo va in crisi Quello interpretato dalla fisica classica La tecnologia fornisce nuovi strumenti per mettere in relazione oggetti Che fino a quel momento si consideravano diversi e separati Come la materia e le radiazioni, la materia e la luce Si comincia a comprendere che in realtà quando si parla di materia Non c'è una separazione netta Che tra gli oggetti di uso quotidiano e le stelle Non c'è poi molta differenza L'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo Sono più vicini di quanto si è sempre creduto Galileo Galilei e Isaac Newton avevano dato forma alla realtà E ce ne avevano spiegato il funzionamento Albert Einstein, Max Planck e Werner Karl Heisenberg Ce ne hanno svelato un'altra, più complessa e inaspettata Una realtà per la quale mancavano addirittura le parole Che potessero raccontarla Bisognava inventare un nuovo vocabolario Che riuscisse a rendere conto del modo in cui avvengono i fenomeni La storia di questa parola è argomento della conferenza spettacolo Quanto? Una parola nuova, associata a un'idea nuova Il mondo quantistico era e resta profondamente controintuitivo E dunque non sempre, nonostante le spiegazioni, è facile comprenderlo Nella messa in scena della diciassettesima edizione del Festival delle Scienze di Roma Il fisico Marco Pallavicini, vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare E professore all'Università di Genova Ci guida in un'avventura difficile Un viaggio nel periodo che ha visto la nascita di questa nuova disciplina scientifica Che ha decretato un radicale cambiamento di visione Il racconto di questa rivoluzione concettuale È arricchito dalle letture dell'attrice Bianca Mastro Monanco E dalla musica che il compositore e trombettista Paolo Fresu Ha scelto per commentare le profonde rivoluzioni Che caratterizzano il periodo di passaggio tra 800 e 900 La meta di questo viaggio sembra essere il vuoto Espresso dalla fisica del molto piccolo Ma è solo un effetto ottico È un vuoto irrappresentabile dall'immaginazione Ma costituisce la lente con cui leggere e interpretare Il linguaggio di tutte le cose che esistono 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 è del 1901 e nel 1901 inizia una grande crisi. La serata di questa sera è dedicata a un passaggio alla fine di quella che chiamiamo fisica classica, una fisica inventata da Galileo Galilei, da Newton e poi da Maxwell, che però è andata profondamente in crisi, obbligando un ripensamento profondissimo di tutti i concetti fondamentali della fisica, proprio nel 1901 e il percorso di macerazione, di insoddisfazione che Mahler ha rispetto alla sua sinfonia, ricalca molto bene il senso di difficoltà, di insoddisfazione, di difficoltà di accettare le proprie stesse idee, che caratteristiche Planck, Einstein e molti altri in questo passaggio fra fisica classica e fisica quantistica. Questo passaggio avviene quando si inizia a indagare il mondo microscopico. La fisica classica si occupava di un mondo macroscopico, di oggetti grandi, di pianeti, di satelliti o di corpi che stanno sulla Terra. Invece alla fine dell'Ottocento nasce una tecnologia in grado di guardare gli atomi e nel guardare gli atomi si comincia a capire che quel mondo di materia e di luce che la fisica classica aveva creato, in cui la materia aveva un suo ruolo ben definito nella meccanica e la luce aveva un suo ruolo ben definito nella teoria di Maxwell vanno in collisione, diventano qualche cosa di incompatibile e che richiederà un profondissimo ripensamento. Ma prima di andare a capire in dettaglio dove avviene il ripensamento voglio fare un percorso. Quindi inizio da un'immagine di materia e di luce, un'immagine che è peraltro una magnifica fotografia scattata da una sonda che nel 1989 è partita per andare verso Giove. Si chiama Galileo, questa sonda, non a caso perché il suo obiettivo è quello di studiare i satelliti gioviani, quindi satelliti che Galileo Galilei aveva scoperto. Perché questo viaggio è interessante? Perché è una magnifica sintesi di quelle idee che chiamiamo fisica classica. Se pensiamo a come Galileo nel senso della sonda è arrivato su Giove, dobbiamo pensare che nel 1989 Galileo è stata lanciata. Quello che è accaduto è che la sonda viene lasciata cadere, letteralmente cadere nel campo del sole, utilizza un meccanismo fisico che si chiama effetto fionda, che è un meccanismo fondato sul fatto che questi pianeti si muovono molto velocemente e raggiunge la velocità necessaria per allontanarsi dal sole e arrivare su Giove. Ora questa cosa di per sé è una cosa che conoscendo la fisica classica, quindi riconoscendo i principi di inerzia di Galileo, le leggi della gravitazione di Newton, le leggi della meccanica che lo stesso Newton ha inventato, è possibile calcolare. Ma l'elemento interessante e importante per lo scopo di questa serata che vi vorrei sottolineare è una serie di elementi che non sono scritti nelle leggi, sono talmente intuitivi e ovvi che non sono neanche scritte nei libri. Se cercate i libri antichi di Galileo e di Newton non trovereste affermazioni del tipo la sonda sta in un posto solo, il sole sta in un posto solo, la posizione della sonda ad ogni istante è un posto e la sonda cambia posizione nel tempo in modo regolare seguendo una ben precisa traiettoria. Questo fatto per la fisica classica è quasi ovvio e non viene neanche sottolineato. Inoltre l'altro aspetto che non viene sottolineato nei libri di fisica classica è che il moto è, come lo chiamiamo oggi, deterministico. Se io lasciassi cadere la sonda cento volte nello stesso modo, arriverebbe su Giove esattamente tutte cento le volte. Questi due concetti si chiamano determinismo e causalità e riguardano tutte le leggi della fisica, non soltanto il moto delle sonde. Un pallone che rimbalza per terra segue una ben precisa traiettoria e ad ogni istante ha una posizione, ha una velocità e se ho studiato un po' di fisica posso anche calcolare esattamente come è fatta questa curva. Questo non è però per nulla ovvio. Come vedremo in un contesto quantistico questi concetti vanno rivisti. Usando un linguaggio che in fisica classica non si usa potremmo dire che ad ogni istante un oggetto classico ha uno stato ben definito. Cosa vuol dire stato? Vuol dire che ad ogni istante la posizione, la velocità, l'energia e tutte le grandezze fisiche importanti sono sempre ben definite, hanno un valore. Questa può apparire un'ovvietà, in un certo senso lo è, ma è un'ovvietà che nel mondo degli atomi risulta essere falsa. Ma prima di arrivare al mondo degli atomi discutiamo un attimo dell'altro mondo. La fisica classica vi ho detto l'hanno inventata Galileo e Newton. Un altro gigante che viene duecento anni dopo, alla metà dell'Ottocento, si chiama James Clerk Muswell ed è l'uomo che ha sintetizzato le idee sull'elettromagnetismo. Ha costruito in particolare una teoria della luce. La luce è un fenomeno apparentemente familiare ma in realtà molto più complesso di quello che superficialmente può apparire perché quella che a noi sembra semplicemente luce è in realtà un'onda. È un'onda fatta di campi elettrici e magnetici che oscillano. Oscillano a una velocità altissima. Un'onda luminosa come quella di questi fari è luce visibile, oscilla circa 10 alla 15 volte al secondo, quindi un milione di miliardi di volte al secondo, una velocità molto grande. E la lunghezza d'onda, cioè la distanza fra i massimi e i minimi dell'onda è poche frazioni di milionesimo di millimetro. Quindi sono onde molto strette e molto veloci. Però ci sono modi per dimostrare che un'onda luminosa è effettivamente un'onda, cioè che la luce è un fenomeno ondulatorio e per questo si possono fare esperimenti del tutto analoghi a quelli che si possono fare con le onde del mare. Le onde del mare sono un fenomeno assolutamente credo intuitivo, che tutti abbiamo visto. E per distinguere un'onda da un corpo e quindi fare una distinzione precisa, posso usare esperimenti come quelli mostrati in figura, cioè la diffrazione, il fenomeno secondo il quale se un'onda trova un piccolo ostacolo forma un'onda sferica, un fatto noto fin dal 600 da Huygens e che è caratteristico dei fenomeni ondulatori. E un secondo fenomeno molto importante che è caratteristico delle onde dell'interferenza. L'interferenza avviene quando due onde diverse si sovrappongono, perché in tal caso in corrispondenza di due massimi l'intensità è massima, in corrispondenza di due minimi l'intensità è minima, ma c'è la situazione in cui un massimo corrisponde a un minimo e avviene un fenomeno di cancellazione. Ora la luce è distinta dalla materia. Nel mondo classico materia e luce sono due oggetti ben distinti. Ebbene, vedremo questa sera che la crisi inizia quando la tecnologia e le idee fisiche classiche vengono messe insieme, quando si comincia a studiare la interazione fra l'elettromagnetismo, quindi le onde elettromagnetiche e gli atomi. Succede il patatrack, ma ne parliamo fra un attimo. Succede il patatrack, ma ne parliamo fra un attimo. Succede il patatrack, ma ne parliamo fra un attimo. Succede il patatrack, ma ne parliamo fra un attimo. Succede il patatrack. Succede il patatrack. Succede il patatrack. Succede il patatrack, ma ne parliamo fra un attimo. Succede il patatrack. Succede il patatrack, ma ne parliamo fra un attimo. Gli elementi che Gershwin interiorizza per portare la sua passione per la musica classica, quella dei compositori dei primi del Novecento, da Satifo, verso una nuova musica che si sta formando dalla migrazione del mondo, quella degli europei, gli italiani, i francesi che vanno nel sud degli Stati Uniti per incontrare una nuova cultura, quella dei neri che provengono dall'Africa, che lavorano nelle piantagioni di cotone, e che insieme in questo scontro e incontro di culture diverse, di suoni, di suoni tribali, soprattutto quelli di ritmi e quelli delle melodie degli europei, nasce una musica straordinaria che poi ha rivoluzionato il secolo. Questa musica si irradia in tutti gli Stati Uniti, principalmente nelle grandi città, nelle città metropolitane e poi dagli Stati Uniti questa musica diventa la musica del mondo, diventa la musica che arriva in Europa, arriva in Giappone e se noi per 40 anni abbiamo guardato agli Stati Uniti come il luogo da cui questa musica nasceva e alla quale bisognava rivolgersi, oggi troviamo nel nostro gese una radice nella quale innestare quello che noi siamo, la canzone italiana, l'opera, oppure la musica gitana, il flamenco, la musica francese della musette. Credo che questo sia un po' la metafora poi di un secolo laddove tutto quello di cui stiamo parlando stasera si aggancia e diventa un pensiero che si può mettere insieme anche questa serata. Grazie Paolo, sì, perché anche in fisica abbiamo un passaggio dal classico al moderno e lo facciamo con una parola nuova, perché la crisi a cui vi ho accennato prima, la crisi che nasce dall'incontro fra due cose che sembravano entrambe capite, la materia e la radiazione, in realtà non lo sono affatto. Ma prima di entrare nel merito devo fare una piccola premessa. Il mondo quantistico è profondamente controintuitivo. E' uno dei grandissimi della fisica del Novecento, che è Richard Feynman, scrive questo, dice questo, dal punto di vista del senso comune, l'elettrodinamica quantistica, lui si riferisce a un pezzo di meccanica quantistica, ma lo si potrebbe applicare a tutto, descrive una natura assurda. E dice chiaramente questa assurdità non è risolvibile, ancora adesso è assurda. Se naturalmente con la parola assurda intendiamo dire profondamente contrario al senso comune, profondamente contrario a quello che pensiamo dovrebbe essere il comportamento della natura, ma che non è. Ora, si potrebbe introdurre il tema in molti modi. Non seguo il percorso storico, perché non è il momento giusto, sarebbe troppo lungo e anche fuori luogo, ho scelto un paio di esperimenti topici per poter introdurre il tema, per poter capire che cosa cambia, cercando anche di selezionare quelli più significativi e forse anche un po' più semplici da raccontare. E' il primo che vi racconto, è un esperimento fatto nel 1900, diciamo alla fine dell'Ottocento, ma compreso nel 1905, compreso da uno dei giganti, forse il più grande fisico della storia, che è Albert Einstein. L'esperimento si chiama effetto fotoelettrico, che vi dice già dove andiamo a parare. In questa foto c'è la luce, c'è il campo elettromagnetico, ci sono le onde e poi elettrico ci sono gli elettroni, che come potrete immaginare hanno a che fare con gli atomi. L'esperimento non è complicato, se prendiamo una piastrina metallica e la illuminiamo sotto vuoto, in condizioni opportune questa luce che incide sul metallo strappa degli elettroni. Si può fare un esperimento per accorgersi del fatto che illuminando una piastrina metallica escono fuori delle cariche elettriche che possono essere misurate. Ora, di per sé il fenomeno non era troppo sorprendente, quando è stato visto la prima volta, Maxwell aveva insegnato che le onde elettromagnetiche trasportano energia. Sostanzialmente quando illumina un pezzo di materiale è come se colpissi il materiale con degli oggetti, con delle palline, la luce può fare forza, può fare pressione. Se aprite la finestra, la luce del sole imprime una forza su di voi, una forza molto piccola di cui non vi accorgete, ma esiste e si può misurare. Quindi nulla di strano di per sé che le onde elettromagnetiche strappino gli elettroni e inizialmente, attorno al 1880, quando l'effetto viene visto per la prima volta, non suscita nessuno scalpone. Poi però uno ci va a guardare bene e scopre una cosa stranissima. Scopre che l'energia degli elettroni che vengono strappati via non dipende per nulla dall'intensità della luce. Potete illuminare il metallo con un laser potentissimo e gli elettroni usciranno sempre con la stessa energia. Mentre se cambiate il colore del laser, cioè se invece di usare per esempio luce rossa usate luce blu, gli elettroni escono fuori molto più velocemente. Accade una cosa assolutamente insensata dal punto di vista della fisica classica, e cioè che invece di dipendere dalla quantità naturale, l'intensità, l'energia dipende dal colore. Questo non ha senso. Le onde del mare, se sbattono su una diga, fanno una forza dipendente dall'ampiezza delle onde, non della frequenza. Più le onde sono alte, più fanno forza sulla diga. E l'intensità della luce è l'altezza dell'onda, non è la frequenza. La frequenza è il colore, il colore non dovrebbe centrare nulla. Invece l'esperimento parla chiaro. Non conta nulla l'intensità. Potete anche abbassare l'intensità a livelli assurdamente piccoli. Vedremo, questo vorrà dire fra un attimo, quando introdurrò il concetto, un fotone alla volta, ma questo prendiamolo come un'anticipazione. Ebbene, continueremo a vedere un elettrone che esce sempre con la stessa energia, mentre cambiando il colore della luce l'energia cambia. Questa cosa manda tutti nel panico, nessuno ci capisce niente, non ha alcun senso dal punto di vista di Maxwell. Passano infatti parecchi anni, passano circa vent'anni, prima che l'esperimento venga correttamente interpretato. E viene correttamente interpretato da un giovanissimo, Albert Einstein, che fa un'ipotesi, presa a prestito da un lavoro di pochi anni prima di Max Planck, che la luce soddisfi questa semplice formula. L'energia non è uguale all'intensità, come dice Maxwell, ma è uguale alla frequenza moltiplicata per una costante, una costante che, poiché era già stata introdotta da Planck alcuni anni prima, oggi chiamiamo la costante di Planck. Ora, quella costante ha quel valore lì, 6.6 in 10 alla meno 34. È un numero straordinariamente piccolo, se lo volete dire a parole, è un decimo di milionesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di una quantità che ha le dimensioni di un'energia per un tempo che i fisici chiamano azione. Ora, qual è il punto perché ho messo questa formula, il numero? Perché quel numero è straordinariamente piccolo, lo vedete da solo. E la piccolezza ve la posso anche quantificare. Se considerate una mela che cade, pensiamo a Newton, tutta la fisica classica nasce con la mela di Newton, è una mela che cade a terra a un'azione, cioè un'energia per un tempo, dell'ordine di 1. Quindi questo numero è pazzescamente piccolo, straordinariamente piccolo. Ma è proprio lì la chiave di volta. La fisica scopre che quando andiamo vicini a quella quantità, quando andiamo nel piccolo, quando guardiamo gli atomi, quando guardiamo cose microscopiche, le cose possono cambiare radicalmente. La costante di Planck è la misura fra il grande e il piccolo. E il concetto di grande e piccolo per la prima volta in fisica acquista un significato oggettivo. Oggi chiamiamo classico, o se preferite macroscopico, o se preferite grande, tutto ciò che ha un'azione grande rispetto ad H. E chiamiamo quantistico ciò che è comparabile con H. Con il suo abito scuro, la camicia bianca inamidata e la cravatta nera a farfalla, Planck sarebbe parso l'archetipo del funzionario prussiano di fine Ottocento. Non fosse per gli occhi penetranti sotto l'enorme volta della testa calva. Secondo il suo stile, usava estrema cautela prima di impegnarsi su questioni scientifiche o di qualsiasi altro genere. La mia massima è sempre questa, disse una volta a un suo studente. Prima valuta in modo esatto ogni passo, ma poi, se senti di potertene assumere la responsabilità, non farti fermare da niente. E Planck non era uomo da cambiare idea molto facilmente. Ammetteva, infatti, di essere per natura tranquillo e alieno da ogni discutibile avventura. Confessava di non avere la capacità di reagire con rapidità agli stimoli dell'intelletto. Più di una volta, gli occorsero molti anni per riconciliare le nuove idee con il suo radicato conservatorismo. Eppure, all'età di 42 anni, fu proprio Planck a dare involontariamente inizio a una rivoluzione. La rivoluzione quantistica. Nel dicembre del 1900. I fisici dovettero effettivamente imparare a convivere con l'idea di quanto. Il primo a farlo non fu uno degli illustri colleghi di Planck, ma un giovane. Un giovane che viveva a Berna, in Svizzera. Soltanto lui si rese conto della natura radicale del quanto. Non era un fisico professionista, ma un impiegato statale, subalterno, cui Planck riconobbe la scoperta che l'energia stessa è quantizzata. Il suo nome era Albert Einstein. è un momento di crisi questo inizio novecento. Paolo ci ha detto di come Mahler abbia pensato e ripensato la sua quinta sinfonia. Beh, la stessa cosa ha fatto Planck tutta la vita, facendo una fatica tremenda ad accettare le conseguenze del proprio gesto. E tutto sommato anche Einstein, che è vero che prende sul serio l'idea di Planck che fa un grande passo avanti con la interpretazione dell'effetto fotoelettrico, ma poi anche Einstein, uomo dell'Ottocento, anche lui tutto sommato ripudia la sua idea in tutta la sua vita e di fatto non l'accetta mai fino in fondo. è un momento veramente di macerazione e di transizione. Perché questo? Perché tutti capiscono che c'è un problema gigantesco. Come conciliare l'onda di Maxwell con il corpuscolo che è il quanto? Perché a questo punto sembra di essere tornati di 400 anni indietro. Newton pensava che la luce fosse corpuscolare, poi era stato smentito dagli esperimenti e adesso però sembrava che fossimo tornati da capo. E invece quello che bisogna fare per risolvere il problema è cambiare logica. L'onda come vedremo fra un attimo la luce non è o un'onda o un corpuscolo è tutte e due le cose assieme e questa cosa naturalmente è il punto nodale della meccanica quantistica come ciò che sia possibile. Allora per capirlo immaginiamo due esperimenti. Immaginiamo prima i fotoni come palline classiche come oggetti corpuscolari come se fossero dei proiettili che tiro uno per uno contro uno schermo. Se immagino di avere uno schermo con dei buchi quando non prendo il buco la pallina rimbalza sullo schermo quando prendo il buco procede e diciamo immaginiamo di avere un secondo schermo dietro. quello che è chiaro è che se la natura è corpuscolare e segue il concetto classico di traiettoria quindi immaginiamo che questo fotone sia un oggetto che si muove come Galileo e che segue una linea inevitabilmente dovrebbe accadere quello che abbiamo visto nell'animazione. Però la descrizione di Maxwell è tutta altra. Ebbene gli esperimenti di quegli anni e soprattutto degli anni successivi dimostrano che il fotone è una bestia stranissima. Cioè se io ripeto l'esperimento con i fotoni e quindi prendo un raggio luminoso e lo lancio verso uno schermo dotato di due fenditure e queste due fenditure siano abbastanza piccole quello che vedo è che i fotoni intanto cominciano a sparpagliarsi a caso uno alla volta attraversano le due fenditure e finiscono sullo schermo in modo apparentemente totalmente disordinato. Questo è quello che mi aspetto da un fenomeno ondulatorio di diffrazione ma in questo caso fatto da un fotone alla volta. La cosa straordinaria che appare in quegli anni è che se però i fotoni sono tanti e io comincio a mandare tanti fotoni verso le due fenditure le frange di interferenza che sono caratteristiche dei fenomeni ondulatori sono quelli che aveva visto Young cento anni prima sono quelli che si vedono con le onde del mare sono le onde che ricompaiono ma non ricompaiono come comportamento singolo del singolo fotone compaiono come comportamento medio come se il fotone sapesse da solo di essere un'onda ma nello stesso tempo di essere uno perché quando ne lancio uno finisce da qualche parte nello schermo non posso trattare il singolo fotone come un'onda ma quando sono tanti si comportano come se lo fosse questa è l'essenza del quanto è un'idea nuova richiede una parola nuova e richiede un ripensamento cento anni di esperimenti hanno dimostrato che il fotone non passa da nessuna delle due fenditure o perlomeno non posso sapere da quale passa interessantissimo se ne chiudo una scompare la figura di interferenza se chiudo l'altra scompare la figura di interferenza se le apro tutti e due l'interferenza avviene come mai? beh chiaramente è profondamente controintuitivo ma non c'è nessun modo di sapere da quale delle due fenditure il fotone è passato potete dire che è passato da tutte e due sì potete dirlo ma è un modo per aggirare il problema il vero problema è che il fotone non ha una traiettoria non segue una linea di punti continua uno dopo l'altro ad un certo punto probabilisticamente compare sullo schermo questo è uno dei caratteristiche essenziali del concetto di quanto un quanto non è una particella non è un'onda potete pensare che sia tutte e due potete pensare che non sia nessuno delle due la verità è che è un'idea nuova dobbiamo abituarci che un quanto è quella bestia strana che si comporta come il fotone non è un'onda non è un corpuscolo a volte è un'onda a volte è un corpuscolo di solito non è nessuno dei due ed è una realtà nuova è un mondo nuovo che dobbiamo analizzare un po' come il jazz che è una musica nuova che sostituisce la musica classica beh Planck nel 1918 vince il premio Nobel e il 1918 è l'anno in cui di fatto nasce il jazz il jazz era nato sicuramente prima c'erano già tanti musicisti che suonavano questa musica che non si chiamava jazz si chiamava jazz con due s di fatto non si sa esattamente quale sia l'origine di questa parola ma nel 1918 un cornettista bianco Nick Larocca originario di un piccolo centro della Sicilia di Sala Paruta registra il primo disco di jazz e questo disco di jazz appunto assume la parola che che continuiamo ad utilizzare da jazz si passa a jazz e Nick Larocca riscrive un po' la storia del jazz un musicista bianco non un musicista nero seppure poi il jazz sia da pannaggio dei musicisti neri per tantissimi anni nel 1929 la crisi americana la crisi economica e poi la swing era l'era dei balli l'era della felicità laddove il jazz inizia a crescere inizia a crescere a modificarsi un po' come ciò di cui stiamo parlando fino a quando poi alla fine degli anni trenta non nasce un nuovo stile musicale a New York il bebop nasce grazie ad alcuni musicisti principalmente di Sigillespi e Charlie Parker ovviamente il bebop modifica sostanzialmente il percorso di questa musica quello che noi oggi dobbiamo al jazz se noi siamo musicisti di jazz dobbiamo quasi tutto al bebop perché questa musica cerca è una musica che non si accontenta solamente di quello che è accaduto negli anni prima appunto dal disco di Nick La Roca passando per Louis Armstrong per B.S. Beiderbeck e per tantissimi altri ma cerca di dare un senso al linguaggio che non sia solamente un senso sotto il profilo estetico ma che sia un senso sotto il profilo di quello che questa musica può dare soprattutto da una comunità come quella dei musicisti neri americani si parlava di una ricerca di cento anni e questa ricerca dei cento anni è esattamente la ricerca del jazz nel 1900 nel 2018 scusate abbiamo festeggiato i cento anni della nascita della nascita del jazz e quella che era la musica degli anni fine anni trenta primi anni quaranta e poi quella che ha generato anche tutto il periodo poi della musica modale inventata da Miles Davis e poi quella della musica free degli anni settanta ornette coleman e tanti altri fino ad arrivare poi al jazz moderno come dire avviene per questa incessante ricerca questo incessante esperimento che viene fatto dai musicisti che mai dimenticano il passato mai dimenticano anche gli esperimenti magari non riusciti ma che cercano semplicemente di innestare la loro storia che è una storia principalmente comunitaria in un linguaggio nuovo che ogni giorno si alimenta che ogni giorno diviene altro soprattutto dall'innesto non solo del linguaggio stesso ma poi delle personalità dei tanti il bebop che ha cambiato enormemente la storia della musica non solamente la storia del jazz oggi viene chiamato mainstream di fatto è il linguaggio che ha offerto a questa musica una straordinaria apertura che ha offerto al jazz una straordinaria possibilità di passare attraverso una porta semichiusa probabilmente esattamente come nei tanti esperimenti di cui si sta parlando e che ha fatto sì che poi questa musica abbia potuto trovare una luce nuova che è quella che noi tutti oggi possiamo vedere grazie 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 Gershwin e il jazz ci portano negli anni venti ci portano nel momento in cui le stranissime proprietà del fotone vengono analizzate cercando di capire se per caso anche la materia possa essere associata a queste stranissime idee i fotoni si comportano come dice come dicono Planck e Einstein ma nessuno sa perché non siamo ancora a livello di una teoria che funzioni la luce esibisce questo comportamento corpuscolare questo comportamento quantistico come oggi lo chiamiamo ma nessuno sa se anche questo valga anche per la materia per gli atomi dobbiamo addentrarci dentro il mondo degli atomi e lo facciamo guardando un'immagine moderna che è lo spettro del sole questa non è è un'immagine dell'inizio del novecento questa è un'immagine di un satellite che si chiama Soho e che oggi analizza con grandissima precisione quello che chiamiamo lo spettro del sole che cos'è lo spettro del sole è la luce del sole sparpagliata da un prisma fatemi dire così anche se oggi non si fa con un prisma ma quello che vedete da in alto a sinistra in basso a destra l'arcobaleno interamente diviso in righe date dal rosso molto scuro quasi nero fino al viola molto scuro quasi negro e si passa chiaramente con regolarità dal rosso al giallo al verde all'azzurro e al viola i colori sono evidenti ma sono anche evidenti un grande numero di righe nere queste righe nere non sono difetti dell'immagine sono righe di assorbimento della luce nell'atmosfera solare cioè il sole emette tutte le frequenze se non ci fosse la sua atmosfera vedremmo lo spettro perfettamente disegnare l'arcobaleno dal rosso al blu invece la luce deve uscire dall'atmosfera solare che si chiede e una parte di queste frequenze di queste lunghezze d'onda viene assorbita e compaiono quelle righe ora quelle righe sono tante perché l'atmosfera solare è fatta da tanti atomi e ogni atomo ha una sua caratteristica specifica di assorbimento questo fatto era noto diciamo dall'Ottocento e lo possiamo esemplificare con il più semplice degli atomi che è l'idrogeno che nella regione visibile ha solo quattro righe che stanno in quelle posizioni che vedete ora fin dall'Ottocento in particolare grazie al lavoro prima di Fraunhofer e poi di Kirchhoff era noto che gli elementi hanno appunto questa caratteristica se voi fate attraversare la luce dentro un'ampolla per esempio prendete una lampada fate attraversare la luce della lampada da un'ampolla poi analizzate quello che esce fuori vedete sparire alcune righe che dipendono dal contenuto dell'ampolla se nell'ampolla ci mettete un particolare atomo per esempio idrogeno oppure azoto oppure ossigeno vedrete sparire delle righe diverse d'altro canto se fate la stessa cosa in emissione cioè prendete l'ampolla e invece di illuminarla la scaldate allora se la scaldate abbastanza comincia a emettere luce da sola e questa luce va a cadere esattamente nelle stesse righe queste due immagini non sono un trucco lo spettro di assorbimento dell'idrogeno è identico se volete il complementare il negativo di una fotografia dello spettro di emissione ora perché gli atomi hanno questa caratteristica questo è un assoluto mistero i fisici i chimici imparano a usare questa cosa prima di comprenderla la spettroscopia viene inventata nella metà ottocento vengono scoperti elementi il cesio il rubidio vengono scoperti andando a vedere la luce uno analizza scalda un oggetto vede degli spettri nuovi e capisce che c'è un atomo nuovo quindi il concetto viene utilizzato prima ancora di essere compreso ma ancora fino a 900 inoltrato 910 915 nessuno sa perché gli atomi abbiano questa stranissima caratteristica di emettere luce solo a frequenze molto precise questa questa cosa richiede tempo perché è incomprensibile e la luce la luce nel senso di la chiarezza la comprensione del fenomeno avviene quando si comincia a capire come è fatto un atomo si deve a Rutherford nel 1908 l'avere scoperto che un atomo è fatto da un nucleo atomico molto piccolo e da degli elettroni che ci girano intorno questa cosa sembra di nuovo una bella idea un concetto elementare oh che bello l'atomo è fatto come il sistema solare ma questo è impossibile Rutherford stesso e poi tutti i fisici di quegli anni stiamo nel 1908 1909 1910 sanno che questo non può accadere perché la terra può girare intorno al sole i pianeti possono girare intorno al sole ma un elettrone non può girare intorno a un nucleo perché Maxwell aveva insegnato che una particella carica un oggetto carico quando è accelerato e il movimento circolare è un'accelerazione l'accelerazione centripeta l'accelerazione genera produzione di radiazione se voi fate girare una particella carica attorno a un punto questa irraggia emette onde radio emette onde elettromagnetiche di qualche frequenza ma le emette per forza e quindi perde energia e cade dentro il nucleo quindi è impossibile dal punto di vista della fisica classica che un atomo sia fatto come un sistema solare però i dati dicono questo l'esperimento è sovrano in fisica bisogna prendere atto che è così Rutherford l'ha dimostrato e allora Bohr di nuovo un giovane un giovanissimo nel 1911 cambia approccio se ne frega della storia ignora la tradizione non ha paura di offendere i maestri e prende atto che la situazione è quella inventa e qui è l'idea fondamentale inventa un modo per utilizzare il quanto di Einstein per dire gli elettroni sì sono in orbita attorno al nucleo ma ci sono solo certe orbite specialissime che sono possibili e queste orbite specialissime sono legate alla costante di Planck questa è l'idea fondamentale di Bohr e ha un enorme successo perché Bohr con la sua formuletta semplicissima spiega gli spettri fa vedere che sulla base dei principi da lui inventati e peraltro non motivati lui si inventa una formula che nessuno sa in quel momento giustificare quindi di nuovo fa un po' quello che ha fatto Einstein decide che il fotone è fatto così e le cose vanno a posto sull'effetto fotoelettrico lo stesso esercizio fa Bohr decide che quelle orbite ci devono stare e però ottiene un risultato straordinario ottiene il fatto che quelle orbite che lui calcola sono esattamente quelle che consentono di dire che quando un elettrone salta da un'orbita più interna a una più esterna assorbe un fotone di un'energia pari alla differenza di energia delle orbite diviso la costante di Planck quindi di nuovo entra la costante di nuovo entra la formula di Einstein e nello stesso tempo avviene nell'emissione l'elettrone una volta che è saltato su può ricadere nell'orbita più bassa ed emettere un fotone Bohr quindi spiega gli spettri il tradunion delle idee quantistiche bisogna prima far violenza alle idee classiche e poi aggiustare le cose perché altrimenti la rivoluzione non si fa lo fa Einstein scrivendo una formula che per Maxwell non ha senso lo fa Bohr scrivendo una formula che per Newton non ha senso ma poi arrivano Schrodinger ed Heisenberg siamo nel 22 nel 23 un'altra generazione ancora più giovane perché Heisenberg e Schrodinger erano soprattutto Heisenberg è molto più giovane di Bohr arriva a 23 anni nel 1924 e fa la grande rivoluzione a questo punto butta via la fisica classica nasce quella che oggi chiamiamo meccanica quantistica nasce dal lavoro di Heisenberg nasce dal lavoro di Schrodinger nasce dal lavoro di tanti altri peraltro in un modo composito perché ognuno di loro offre un piccolo contributo ma diciamo i due giganti sono Heisenberg e Schrodinger che sostanzialmente fanno il grande passo abbandoni la fisica classica abbandoni il concetto di orbita abbandoni l'idea che l'elettrone abbia una posizione nell'atomo inventi l'equazione di Schrodinger l'equazione di Schrodinger è un'equazione matematica che dice l'elettrone non segue più nessuna orbita non ha neanche una posizione definita non ha neanche una velocità definita l'elettrone forma quello che nel linguaggio dei chimici si chiama un orbitale nel linguaggio dei fisici si usa la parola funzione d'onda ma l'idea è la stessa l'elettrone è sparpagliato attorno al nucleo ma è sparpagliato in un senso che è profondamente non classico perché si rinuncia completamente al fatto che l'elettrone abbia una posizione non ce l'ha l'elettrone è da qualche parte attorno al nucleo ma questa qualche parte è sconosciuta e attenzione non è sconosciuta perché noi non la sappiamo è sconosciuta perché non è definita l'elettrone non ha una posizione e l'elettrone non ha una posizione perché non è una particella nel senso classico del termine non è la sonda Galileo e non è neanche un pianeta non è il sole è un elettrone cioè anche lui è un quanto Rutherford dimostra che un nucleo è 10 almeno 15 metri di diametro quindi quello che oggi chiamiamo un fermi un milionesimo di miliardesimo di metro l'atomo è un decimo di miliardesimo di metro ora sono tutti due numeri così piccoli che uno tende a confonderli ma un nucleo è 100.000 volte più piccolo di un atomo questo vuol dire che dovete immaginare l'atomo come una cosa grande come Roma e con il nucleo grande come una noce l'elettrone se voi pensate un nucleo atomico grande come una noce nella mia mano è ovunque dentro un raccordo anulare ma è ovunque nel senso di non ha una posizione definita è completamente delocalizzato e questo è il significato dell'equazione di Schrödinger l'equazione di Schrödinger calcola con esattezza quelli che chiamiamo i livelli atomici calcola con esattezza le energie riproduce in modo quantitativo e assolutamente chiaro tutti i fenomeni quantistici noti con il lavoro di Heisenberg e di Schrödinger la meccanica quantistica diventa una teoria quella di Einstein non era una teoria era un'idea iniziale quella di Bohr anche soltanto un abbozzo negli anni 20 tutte queste idee diventano una teoria ma a un prezzo altissimo Heisenberg dimostra che posizione e velocità di un corpo non possono essere contemporaneamente determinate introduce quello che si chiama il principio di indeterminazione che dice questo l'incertezza quel delta vuol dire incertezza quell'incertezza sulla posizione moltiplicata l'incertezza della velocità sono una costante che è la solita costante di Planck che è la base il fondamento naturale della meccanica quantistica diviso la massa dell'oggetto e questa incertezza non è figlia di ignoranza in meccanica quantistica quelle quantità non sono determinate ci esiste un limite intrinseco alla nostra possibilità di conoscere le quantità fisiche nei sistemi quantistici l'equazione di Schrodinger dice molto precisamente come queste quantità evolvono nel tempo ma questa evoluzione è di natura probabilistica poiché le quantità non hanno un valore determinato di fatto tutte le volte che facciamo una misura l'unica cosa che ci possiamo chiedere è qual è la probabilità di avere un valore come nel caso del fotone che attraversa le fenditure va nello schermo noi possiamo solo chiederci con quale probabilità finirà in una posizione dello schermo ma non possiamo determinare deterministicamente nel senso di Laplace dove andrà e pochi anni dopo Davison e George Thompson dimostrano che questo comportamento dei fotoni assolutamente insensato assolutamente contro natura nel senso della natura che ci siamo creati guardando il mondo macroscopico vale anche per gli elettroni anche gli elettroni si comportano come i fotoni anche gli elettroni sono quanti e qui c'è anche un piccolo scherzo del destino a dimostrare che gli elettroni non sono particelle classiche è il figlio di J.J. Thompson che aveva scoperto l'elettrone pensando che fosse una particella classica quindi il padre scopre l'elettrone come particella classica e il figlio dice che non è vero l'elettrone è un quanto quantistico ma questo è stato uno scherzo della storia tutto questo insieme di idee che vengono da Schrödinger da Heisenberg da Max Born da tanti altri guidati dal padre spirituale che è Bohr aprono una strada nuova in particolare Bohr e Heisenberg sono forse i due protagonisti principali di questo di questo aprire una strada nuova di aprire un mondo nuovo che come vedremo nell'ultima parte porterà un ulteriore sviluppo a un ulteriore sconcertante monto dei quanti che vedremo fra un attimo copenhagen autunno 1941 Niels Bohr e Werner Heisenberg ragionano così tre anni di fredda tonificante primavera nordica alla fine dei quali avevamo la meccanica quantistica l'Europa era al colmo della sua gloria un nuovo illuminismo con la Germania al centro di esso nel posto che le spetta e chi ha aperto la strada a tutti gli altri noi due la mia mente cominciò a schiarirsi a Elgoland su un'isola rocciosa e brulla nel mezzo del mare del nord ebbe un quadro molto preciso di come avrebbe dovuto essere la fisica atomica improvvisamente mi resi conto che dovevamo limitarla alle misurazioni che potevamo effettivamente fare a quello che potevamo effettivamente osservare noi non possiamo vedere gli elettroni all'interno dell'atomo possiamo solamente vedere gli effetti che gli elettroni producono sulla luce che riflettono ricordo la sera in cui la matematica cominciò a quadrare con il principio fu terribilmente faticoso sono così eccitato che faccio un errore dopo l'altro ma alle tre del mattino finalmente ne vengo a capo e mi sembra di guardare attraverso la superficie dei fenomeni atomici dentro un mondo interiore stranamente bello un mondo di pure strutture matematiche beh sì però poi scoprimmo che se si isola un elettrone da un atomo e lo si spara in una camera a nebbia si può vedere la traccia che lascia beh questo è uno scandalo non dovrebbe esserci nessuna traccia difatti non c'è nessuna traccia né tracce né traiettorie né orbite quelli lì sono solamente degli effetti esteriori beh ma la traccia c'è l'abbiamo vista è un paradosso è un paradosso molto affascinante ecco 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 qual è il tuo problema Bor a te piacevano i paradossi tu sguazzavi nelle contraddizioni e invece tu a Heisenberg non sei mai riuscito a capire il fascino di paradossi e contraddizioni è questo il tuo problema tu vivi vivi e respiri paradossi e contraddizioni eppure non riesci a vederne la bellezza più di quanto un pesce possa vedere la bellezza dell'acqua in cui nuota sì certe volte io mi sentivo intrappolato in una specie di inferno senza finestre tu non ti rendi conto di quanto sei aggressivo passeggi avanti e indietro per la strada come se volessi mangiarti qualcuno e io indovino sempre chi comunque è così che abbiamo fatto la fisica ma alla fine dovevo allontanarmi da tutto mentre io rimasi a Copenhagen e finalmente cominciai a pensare e fu allora che elaborai l'indeterminazione passeggiando per Fellet Park da solo una gelida sera di febbraio è già tardi e appena entro nel bar nel parco mi ritrovo completamente solo nell'oscurità e incomincio a riflettere incomincio a riflettere su quello che uno vedrebbe se potesse puntare un telescopio su di me dalle montagne della Norvegia mi vedrebbe che passeggio sotto i lampioni e poi di colpo puff scomparso scomparso nel nulla poi un'altra breve apparizione sotto i lampioni davanti al palco della musica e poi puff nulla più sparito di nuovo ed è questo è questo quello che vediamo nella camera a nebbia non una traccia continua ma una serie di fugaci apparizioni una serie di collisioni tra l'elettrone che passa e le varie molecole di vapore acqueo o pensa a te Bor pensa al tuo grande viaggio papale a Leida nel 1925 che cosa ha visto tua moglie stando qui a casa a Copenaghen di quel viaggio una cartolina postale da Hamburgo forse poi uno poi una da Leida una da Gottinga un'altra da Berlino non c'è una traccia non ci sono indirizzi precisi soltanto una vaga list di paesi visitati e io non so non lo so perché non ci abbiamo pensato prima so solo che forse eravamo troppo impegnati a discutere per riuscire a pensare ok A presto. 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 A presto.